ciao a tutti oggi vediamo questo cavallo in corsa pirografato su una tavoletta di legno di compensato da 3 mm prima ho fatto il disegno sul sul legno ho utilizzato questo che è un pirografo brand peter e sono partita da una foto in bianco e nero stampata su carta da fotocopia la foto è stata modificata in quanto ho cercato di aumentare il contrasto per far vedere di più le parti scure e le parti chiare non so se si riesce a capire ma ci sono due immagini da cui sono partita una è la foto vera e propria che è questa e l'altra invece è stata un po modificata per mettere in evidenza le parti chiare e le parti più scure se vi interessa approfondire questi argomenti c'è il mio libro la tecnica della pirografia uso pratico del pirografo noi vi aspettiamo anche sul nostro sito dove abbiamo tanti pirografi e accessori per la pirografia elettronicadidattica.com vi saluto e vi aspetto su questo canale per i prossimi video ciao a tutti a presto